Salve amici del Centro Metro Italiano. Prossimi giorni tra caldo e temporale in Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per martedì 11 giugno. Tempo instabile con piogge sparse al mattino su Lombardia e nord-est. Nubi sparse schiarite sul resto della penisola. Al pomeriggio instabilità con fenomeni soprattutto su Alpi e alte pianure. Locali acquazzoni anche tra Umbria e Marche e sulla Sardegna. In serata è notata ancora maltempo al nord con temporali localmente anche intensi. Variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale calo. Massime in aumento al centro-sud e in diminuzione al nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.